Motoseghe in azione nei giorni scorsi lungo la bonifica del Tronto per tagliare gli alberi, il re di favorire la prostituzione. La denuncia è del WWF che ha documentato l'avvenuto taglio con fotografie scattate lungo la bonifica durante un sopralluogo. Questa mattina, insieme alla Lipo, al coordinamento ciclabili dell'Abruzzo Terramano e all'Associazione On The Road, il WWF ha ribadito l'assoluta contrarietà al taglio degli alberi. Le associazioni chiedono di sapere da chi è partita l'autorizzazione e per quale motivo, ricordando che l'area è sottoposta a diversi vincoli ed è a rischio idrogeologico. Dall'Associazione On The Road, che si occupa del recupero delle lucciole, parte invece l'appello ad attivare un confronto tra forze dell'ordine, istituzioni e altre associazioni per arginare il fenomeno della prostituzione. In dieci anni sono state sottratte alla tratta 500 ragazze che oggi sono tornate a vivere e a pagare le tasse con un lavoro onesto e pulito. Quindi sostiene l'associazione e i fatti dicono che si può fare molto di più. Abbiamo avanzato da diverso tempo di costituire un tavolo di lavoro con gli andi locali, con la questura, forze dell'ordine, comunità locali, cittadini e anche le ragazze che si prostituiscono con noi per poter capire come possa essere abbassato il fenomeno dell'insicurezza strutturata nel territorio che è ampia e dall'altra parte salvaguardare comunque le persone che sono vittime di tratta, la maggioranza delle quali sono in strada e a noi interessa molto che le persone vittime possano diventare cittadine e non se le rende cacciate in maniera quasi a volte senza capirne come nella modalità in maniera direi a volte come se questa situazione magari è determinata anche da tutta questa riflessione nata da un livello ambientale allora un po' ci fa riflettere che forse deve essere affrontata in maniera più seria, più profonda che salvaguardi davvero tutti.